Zizzo quanto fai cagare da uno a cento popolo rosso nero amizi di youtube benvenuti a benzinero stadium mi raccomando raga iscrizione campanellina attiva pollice in su per i benzinero questa sosta della nazionale mi scartavetra i marroni proprio ho un senso di noia mostruoso dopo sia importantissima ci giochiamo i mondiali ma capitemi eravamo lì siamo primi in fermento non vedi l'ora che arriva la prossima partita perché il campionato è nel vivo stiamo assaporando la possibilità di vincere questo campionato la sosta della nazionale però ci sta anche quella nel frattempo chi ci fa ridere il nostro amico Zizzo che anche ieri ha fatto delle oscenità in Porta Colpare in Saint Germain va avanti a trepere a partita questo qui non c'è più con la testa io Zizzo tu là in Francia non sei nella tua comfort zone perché in Francia i giornali non c'hanno la lingua marrone che ti concedono tutto a ogni errore visto che sei voluto andare là a guadagnare una marea di soldi perché tu sei il portiere più forte dell'Europa del mondo dell'intero continente come dice il proverbio cinese porco cane tu sei andato là e tu non stai rispondendo ai soldi che guadagni tu stai mangiando lo stipendio e non ti possono più vedere non ti perdonano niente mentre qua i giornalisti con la lingua marrone ti perdonano tutto tu puoi fare anche le uscite a vuoto poi fai una parata grande Zizzo quindi io ti consiglio torna in Italia e vai alla Juventus che va bene per te la squadra giusta per te perché per i traditori a Milano al Milan non c'è posto quindi tu vai in quelle squadre di tanto tu ci volevi già andare perché alla fine tu non hai dignità tu non hai rispetto per la tua squadra la tua ex squadra tu saresti andato è che poi hanno deciso di prendere Scesnik quindi vai là perché tu non sai vincere le super sfide nei campioni tu non ci stai bene perché fai talmente schifo che sei l'ultima ruota del carro al Paris Saint Germain e si vede e infatti la mia preoccupazione è grossa perché oggi la domanda è mentalmente Gigio è pronto a farci qualificare ai mondiali o rischiamo altre cappellate no perché sinceramente già il campionato verrà firmato a metà novembre e noi da metà novembre a gennaio che cazzo facciamo cioè almeno se ci sono i mondiali gioca l'Italia c'è lo spirito ma se dovessimo essere eliminati Zizzo cazzo facciamo finché non finiscono i mondiali stiamo lì a vedere l'Inghilterra la Germania il Senegal non lo so io quindi io sono preoccupato per la mia nazionale perché questo con la testa non c'è più si è montato la testa voi giornalisti a voi lì che è la più forte più forte del mondo avete state bruciando assieme ovviamente a ciccio man pasticcio man state bruciando un giocatore che però alla fine alla sua età è inutile continuare a dare le colpe agli altri si è bruciato anche da solo perché lui è un goloso di denaro quindi davvero vai alla Juve perché io ti voglio vedere una volta almeno una volta all'anno per poterti insultare pesantemente i veri portieri i veri fenomeni sono quelli silenziosi come Magic Mike e guardate che i grandi campioni dalla stampa italiana il portiere come Magnan non viene esaltato neanche la metà di quello che merita ma a noi non ci importa sono i numeri che lo dicono che Magic Mike è dieci volte più forte di te la stampa italiana c'è la lingua marrone e ama solo zizzo quindi vieni in Italia che non vediamo l'ora di vederti a San Siro sempre pazza mia ci vediamo domani grazie a tutti